parlerei prima di speak no evil è un film che trovate sulla canale sotto canale di prime video di mid lane factory vediamoci un attimo il trailer così ci caliamo un po nella parte non nella parte ma nel nel mood speak no evil se no non mi ricordo tutti i nomi a parte che ha un bellissimo poster il film veramente stupendo meraviglioso un film danese no è un film danese olandese e e sono danesi e olandesi anche i protagonisti perché la coppia ospitante olandese la coppia che arriva con due famiglie è danese il regista e christian taftrup e è un regista che ha già fatto dei film ma sono film praticamente local cioè che qua non sono arrivati che sono sconosciutissimi ai più e diciamo che questo si può considerare il suo primo film che mette il naso fuori dalla patria con facendosi notare è una parte girata in italia infatti come dice thomas perché appunto come avete visto lui anche prova a parlare in italiano perché sono in questo insomma agriturismo italiano e loro lì si incontrano queste due coppie si incontrano purtroppo io il film l'ho visto in italiano e vedendo e rivedendo il trailer oggi mi rendo conto di quanto ho perso di questo film che comunque è un film che riesce comunque arrivare dritto al punto anche appunto con questo handicap che toglie sicuramente enfasi alla recitazione intensità e anche alcune sfumature come il fatto che per esempio quando lui parla in italiano durante la tavolata durante questa tavolata di turisti è evidente e doppiato in italiano noi non capiamo che lui sta facendo lo splendido e sta parlando in italiano capite voi che questo in realtà è un piccolo dettaglio serve anche ai fini della trama cioè il fatto che lui sia così e dica quella battuta lì ha un senso anche con quello che succede là dopo vabbè loro fanno amicizia si conoscono e hanno entrambi dei bambini loro hanno un bambino piccolo maschio un po problematico e loro hanno una bambina piccola femmina che invece è normalissima tranquilla gioca parla si diverte e decidono di invitarli a casa loro per passare un weekend e questi qua accettano anche se un po titubanti perché comunque li conoscono poco durante il soggiorno piano piano le cose inizieranno a degenerare e si capisce dal trailer io praticamente vi dico il trailer non vi dico di più finché non verrà fuori un casino incredibile una situazione molto molto drammatica e a livello di trama purtroppo purtroppo mi devo fermare qua però sappiate che il film vi cuocerà a fuoco lento vi cuocerà fuoco lento vi cuocerà fuoco lento con una un abile diciamo messa in scena per cui all'inizio tutto sarà rose e fiori tutto sarà estremamente divertente poi piano piano inizieranno a venire fuori delle cose fastidiose delle cose spiacevoli nei confronti della famiglia ospitata che in realtà dovrebbero e lo spettatore se ne accorge dovrebbero essere indizi di qualcosa lo spettatore più attento capirà meglio che cosa secondo me già a metà film però comunque poi c'è c'è di roba da scoprire ce n'è è un film che ha proprio quel sapore un po' nordico con una fotografia fredda non elaborata asciutta realistica e forse il fatto che abbia una fotografia così realistica lo rende più crudo più reale più verosimile ecco in realtà poi io ecco qua nel mio schema mi sono segnato solo cose che non posso dirvi perché sono spoiler quello che mi è piaciuto parecchio io non so se questa percezione l'hanno avuta anche gli altri ma è un tema all'interno di questo film perché chiaramente è un film e si capisce che nasconde qualcosa di brutale di molto malvagio di tremendo ma questo non è questa non è una novità una un film come questo dove accade qualcosa di cattivo non è una novità quello che è interessante intrigante e l'atteggiamento dei della famiglia diciamo che viene ospitata un atteggiamento estremamente passivo con delle varie sfumature in cui inizialmente cercano di sottrarsi e poi cercano per una questione anche di convenzione di non fare una figura da persone maleducate quindi in un modo o nell'altro lasciano che gli eventi accadano senza che siano loro a gestirli senza che siano loro a scegliere cosa che capita in realtà molto spesso tutti noi fino a un punto in cui in qualche maniera sarà troppo tardi e la cosa che mi ha non spoilerate troppo se no scrivete spoiler raggette si salta il vostro commento facciamo così così almeno poi tra l'altro vi ricordo se volete discutere punto esclamativo discord potete andare sul discord secondo me si parla di incapacità di reazione mancazza di aggressività l'aggressività necessaria per uscire da certe situazioni per l'aggressività e ma che persino nelle persone più insospettabili può venire fuori nel momento del bisogno nel momento dell'autoconservazione l'istinto di sopravvivenza viene totalmente a mancare e ed è diciamo la sfumatura con il sapore più intenso in tutto questo dramma il dramma è assolutamente un dramma visto e rivisto assolutamente parte di un genere ma quello che rende questa esperienza un'esperienza veramente singolare è proprio questo questo sapore nuovo un sapore di dato proprio dal modo che loro scelgono le vittime scelgono un modo per reagire a questa cosa che è un modo veramente assurdo ma non incomprensibile e non in reale è un modo è un modo ed è veramente affascinante un film estremamente crudo crudele ben girato penso ben recitato perché dalle diciamo le espressioni io avendolo visto in italiano posso dirvi che a livello proprio di di espressività facciale è credibile funziona ci sono degli ottimi attori ovviamente sconosciuti danesi che veramente fanno un paiolo così agli attori famosi americani che vengono usati e riusati mille volte ma col cazzo che recitano in questa maniera per me è un film estremamente bello ma ribadisco basta chiamare capolavori le cose solo perché sono molto belle e si distinguono dalla merda questo è un ottimo film veramente veramente nel suo genere tra i migliori molto sofisticato soprattutto per per questo aspetto di ricerca proprio di questo tipo di emotività di questo tipo di reazioni umane di scoperta della psiche umana cioè non è per nulla banale c'è una bella disamina sul rapporto genitoriale con te come tema per fortuna non ho figli ma guarda io ti dico io soffro parecchio le situazioni genitoriali nel cinema horror perché finiscono finiscono male o comunque c'è insomma i bambini soffrono nei film in un modo o nell'altro anche quando si salvano comunque non è che si passano dei bei momenti questo non è un film che però mi ha fatto soffrire in quel senso è un film che mi ha sconcertato mi ha disorientato e non non ho avuto neanche modo di empatizzare troppo con i personaggi perché non riuscivo proprio a entrare in sintonia con con loro anche se li capivo e li trovavo realistici io andrei oltre al rapporto genitoriale o genitori quasi qua in ballo in questo film ci sono tantissime dinamiche sociali e sono le dinamiche sociali sono il il trucco con cui si creano tutti gli espedienti per mettere in conflitto le due coppie quindi la cena fuori la birra in piscina il fraintendimento la notte la convivenza il bagno sono tutti espedienti per creare delle scene dove noi in realtà se vogliamo vederla da questo punto di vista è anche un film dal punto di vista dello spettatore investigativo cioè quelle scene lì ti permettono di capire cosa sta accadendo però devi essere molto molto sveglio perché capire che questa vacanza insieme non è che finirà bene quello vabbè lo capisci nel tre cioè non sei un genio ti viene solo data molta più conferma di una cosa che hai già capito capire quello che sta accadendo è possibile anche se è molto complicato io per esempio non l'avevo capito fino a un certo punto fino a un certo punto l'ho capito anch'io arrivare alle scene finali in cui viene viene spiegato cosa accade senza aver capito niente significa essere anche un po' disattenti secondo me il film quello che vuol fare è darti piano piano per esempio lui entra in situazioni di intimità dove non dovrebbe entrare dice delle cose che non dovrebbe dire cerco di rimanere sul vago il fatto che lo abbia fatto dovrebbe farti dedurre alcune cose vanno riviste ecco quindi in questo senso il film è bello perché mette in discussione e alcune dinamiche sociali che nel film veramente diventano un gioco un gioco per per farvi per vedere se c'è questo tira e molla se la coppia si decide o non si decide a fare una cosa finché poi alla fine come sapete andrà come deve andare quindi un gran una un gran bel film un gran bel film sicuramente potente potente ed è facile pensare io cosa avrei fatto al loro posto e quello lo si quello si fa in molti film io penso in questo film praticamente il sacco di persone non si riconoscano fino alla fine magari a un certo punto tutti noi saremmo avremmo fatto mille altre scelte questo è tutto per quanto riguarda la recensione di speak live e spero di avervi detto qualcosa chiaramente senza spoilerarvi silvia se sei ancora dei nostri guardatelo che è bello cattivo è un film che fa venire ansia che fa venire nervoso perché ti cuoce veramente a fuoco lento e questo merita comunque non è sicuramente un film per cui ci sono grossi dubbi se vale o no poi a chi piacerà di più e a chi piacerà di meno